E ragazzi, come va? Io sono Fieri, Niki E sono Stefano, che si chiama Farnat E benvenuti in un nuovissimo episodio di Fortnite in cui proveremo la nuovissima modalità appena uscita Oro massiccio Oh yes! Molto semplicemente, tutto quello che incontreremo sarà leggendario I player, le armi, qualunque cosa No, i player nostri Non è vero, solo le armi Solo le armi E ovviamente non ci sono le armi che non arrivano a leggendario in versione leggendaria Abbiamo soltanto le armi che si possono trovare in versione leggendaria Quindi ad esempio, i pompa, non li possiamo trovare perché non esiste un pompa leggendario Quindi cambia anche le meccaniche Non solo è divertente il fatto che useremo soltanto armi fortissime Ma è anche divertente il fatto che cambieranno un po' le meccaniche Poschetto è la nostra città, Fede, sei carica? Sì! Cosa vuoi trovare lì sotto? Lo SCAR! Ovviamente, ovviamente, ovviamente Ma c'è stato l'anno 40 di quelli SCAR Allora, l'unica mia speranza è che ci sia massimo un team Perché faiare due contro otto non mi sembra una roba più piacevole per iniziale No, beh certo, è molto più difficile Allora, vedo già un player di fronte a te con l'ombrellino della vittoria Due, quindi un altro team di sicuro Minimo un altro team Eh, per ora ne vedo due Ok, allora, qua ci sono solo colpi Io scendo così Perfetto Shieldini, slurp E sono praticamente già full shield Credo che sia sceso uno nella mia casa No, sono io sopra di te Ah Ero vicino a te Non è che avevo tanta scelta, Steph Oh, mi è toccato Vado su a rubarti le cose Pussa via Una caraffa Desert Puoi prenderti quello, sì E la pistola Ok, facciamo attenzione Aspetta, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua Ok, ok Ti molo uno scillino Ok, va bene E poi partiamo per la guerra Eh, perfetto Che cavolo sto facendo? Non lo so Facciamo così Facciamo così Facciamo così Sì, la prendo Finché uno ha uno slot Io me la prendo Io me la prendo Ok, allora Comunque danno anche più materiali le ceste Perché sono già 200 di legna Ah, buono Ottimo Player Dove? In casa Sopra Al piano di sopra Ok Proviamo a entrare? Ormai sì, l'hai sparato Quindi sa che ci siamo Sì, perché ci stava guardando dalla finestra È una di quelle persone inquietanti Che guarda dalle finestre Ok Ma Ma Ok C'è un altro in casa? Suppongo di sì Ma questi non si sono avvisati Avicela Mi prendo un attimino La sua pistola Ok Che è sempre comoda Non lo so Magari non stanno parlando Tra di loro, Steph Ti dimentichi che non tutti parlano Uh, fucile da cechino Questo è raro Oh, bravo Allora, quindi mancano Minimal di tre player Se c'è solo un team E non siamo così sicuri Di questa cosa Sì, sì, sì Come ce la giochiamo? Non lo so Non lo so Ascondiamo nel tetto Esatto Cerchiamo di vedere un pochettino Se vediamo dove sono gli altri Anche se mi sono un po' ripetuta Ma se si è capito il senso Di quello che volevo dire Ok, ok Calma, calma Ce la facciamo Ce la facciamo No, non sto dicendo che non ce la facciamo È che non abbiamo visione Aspetta C'è qualcuno in casa Qui sopra Eliminato Morto subito Morto subito, eh Sbaglio Sì, c'è un'altra caraffa Io Sinceramente ti consiglierei Di prendertela Ma comunque aspetta Sto ripetendo un attimo Non so una cosa Che non ha senso Lo so Erano solo in due Credo No, allora Io ne ho visto due scendere Ok Due Non ho visto gli altri due Nessuno ha sparato in questa città Se non noi Però io ho visto Lutare una casa Tutto ad ovest Che era molto lontana Allora Secondo me Secondo me era un team da due Però prendiamo Capitano Prendiamolo per certo Per forza Perché nessuno ha sparato E lei è stanto morta Esatto Quindi quello Ok E siamo sicuri al 100% Il discorso è C'è un altro team Questo non lo possiamo sapere Vabbè Quindi occhi aperti E ore Uh Fugere da cecchino Stai scherzando Quella ripetizione Però l'ho trovato Di assoluto è rarissimo Ne abbiamo già trovato due Trovate anche lo scudo Se ci vogliono andare Anche l'RPG Quello cicciotto ho trovato Ok Ok Lo sto bevendo Ok Ottimo Perché non si sa mai Se c'è qualcun altro Non voglio essere senza shield Senza dubbio C'è lei la caraffa vero? Eh sì L'ho presa Altro fucile da cecchino Quello da un colpo C'è un altro fucile da cecchino Quello da un colpo Sì sopra Cavolo E rispondimi Anziché dirmi un altro fucile da cecchino Ferro Ero con te dall'inizio Sono entrato prima di te In sto posto Che domande mi fai? Ma siccome tu sei più veloce Ho pensato che fossi già uscito E che so Bolt Sì Andiamo a fare Quanti materiali hai? Ma che schifo Cioè ci tocca fare tutta la salita Senza buildare per risparmiare Per andare a risparmio Ho capito? Andiamo a risparmio No Ferro muoviti che dobbiamo arrivare Dai un pochettino Non facciamo in tempo poi Ma non rompere Pedala Allora stiamo dentro la zona Ma proprio abbondantemente Quindi per ora non ce ne dobbiamo preoccupare Sinceramente non c'ho voglia di andare a risparmio Vai Andiamo E qui esageri pure Guarda Guarda quante scale inutili Che hai fatto Steph Non si fa Andiamo E qui sopra quindi? Sì Ok Siamo praticamente arrivati Spero non sia arrivato anche un altro team Perché No infatti Incontrarne quattro così frontali Non sarebbe piacerevole No no per niente Proprio nulla di nulla Non credo che possiamo sopravvivere Dai 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 Vogliamo subito l'RPG Daccela buona questa notizia Proprio lì Ah Ti prego Che tristezza Vabbè Ok c'è la salita Io mi guardo un attimino in giro Tu pensa all'airdrop Ok Vediamo se ci arriva qualcuno addosso Ma non mi sembra Un po' di fortuna Mi sembra abbastanza desolato Che hai trovato? Quello che serviva L'RPG? Sì l'abbiamo chiesto Mi sembra giusto E ho solo tre colpi Che è un po' un problema Fai vedere se ne ho Ne ho due Tieni Già cinque non è male Esatto 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 E dicevo anche trampolino Quindi due cose che io adoro In una botta sola In un solo airdrop Due cose che adoro Se vedi Bills C'è gente che è scesa anche da quella montagna Eh sì Sì Vedo 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 Ok Ok Beh io direi Facciamo gli spioni Uh visto Dove l'hai visto? Aspetta Gli ho accarezzato i capelli Dove? Gli ero accarezzati Sotto di noi ha 285 Ok Stava rompendo un muro Quindi facendo materiali Ok Lo rivedo Lo vedi che bui là Si sono chiusi dentro la casa Minimo due player Sì 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 Ok Minimo 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 due Ok Adesso vedremo un pochino Come si muovono Cosa fanno Occhio perché magari hanno altri In totalmente altre case Ci vedono Ci snappano No certo certo Non è una cosa bella Aspetta che lo vedo dalla finestra Dove? Che fanno? Ma perché stanno a spaccare tutto questi? Sono degli incivili Gli serviranno Boom Baby Non l'ho one shotato Ma colpo di cechino leggendario Dritto in faccia Quello ha perso tutto lo shield E anche un po' di vita Ok E continuo ad averne visto sempre due Ma secondo me sono minimo tre Allora Nuova zona Spiaggia snob ancora dentro Quindi io direi di torturare questi poveretti Poverini Poverini stavano solo facendo materiali Stiamo rompendo le scape Cosa dobbiamo fare? Qualcosa dobbiamo sempre fare Dobbiamo usare le armi leggendarie Allora facciamo anche attenzione Che non ci arrivi qualcuno alle spalle Li vedi? La tipa si stanno per affacciare? Ma sempre in quella casa Boom Un'andata Ok lo vedo Ho visto Ho visto Cerchiamo di prenderli Vediamo se riesco Sono io Ok mi ha fatto venire un colpo Stasso Aiuto Ok corre Colpito una volta Ok ho visto 36 shield Minimo 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 sono tre Ok minimo Perché a sto punto ho visto minimo tre persone diverse Ok Eh Ok Ah infatti lo vedo sotto Quello però È hitabile Che vuole fare? Venire addosso a noi Hitato una volta E adesso è billa Non sprechiamo troppi colpi Perché non so te ma io non ne ho troppi Da sopra Ma non ho colpito Li vedi? Da dove? Sopra Sopra dove c'è il bill Ah ok Colpito una volta 36 Ok Stiamo togliendo tutto lo shield possibile e immaginabile Pirocchio ti conviene billare un minimo di scale Sì 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 hai ragione Ok Ma c'è anche quello qui sotto È quello qui sotto che ci sta a colpire Ok È quello qui sotto che ha costruito qui sotto Vabbè vediamo chi avrà più colpi e chi avrà più pazienza E chi avrà più voglia di combattere certo Ok ha subito billato Un altro è andato nella posizione di quello che c'era lì Ok Quindi ne abbiamo due sotto Eh È un fight strano eh Sì 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 Fait abbastanza strano Colpito Due volte 36 E senza shield Ok Quindi quello è basso Colpito una terra Ok Ah Continuano a distruggermi le cose Che fastidio Fanno anche l'uno Ok bravo Quindi ne rimangono altri tre Altri due Boh Fare Da dove? Sopra Ok colpito colpito Ma guardate sto qua Dov'era? Qui al lato Lo vedi al lato della montagna? No purtroppo no Ma affianco a noi Affianco a noi Ok coprimi Mi tiro un No vai 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 No io l'ho colpito Il problema è che è andato dietro la montagna Ma non so Lo potevo pure per dire Ci sta facendo il giro perché è scomparso uno Però cavolo Eh no Ho paura che poi vada dietro E salga la montagna E mi spu Infatti sto pensando di farlo noi Capito eh Facciamolo noi preventivo Sì 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 Ho paura di quello Perché non lo vedo ovviamente dietro la montagna Occhio Ok Ok Era qui dietro sì Allora cerchiamo di avere visione senza darne l'oro Io non lo vedo No neanch'io Sì evidentemente è ancora molto sotto Esserebbe utile farlo fuori Sai com'è Sì No non ho visione È troppo ripida sta montagna Non si riesce a vedere sotto Capito Lo so Anche perché poi è scomparso pure l'amico Eh bisognerebbe buttarsi per vedere Aspetta Ok Ok Ne vedo uno Sotto di noi Sotto sotto Sì Ok Qui sotto Ok E che cavolo Fammi fare il giro Andato Ne manca solo uno Uh Ok Bravi Dov'è Hai visione Dell'altro No Ok Però questo provo a lutarlo Perché non hai colpi Ah non lo so Bug L'avrà finito Ah no Probabilmente Bug Che bug è Anche perché non aveva colpito nessun'arma Mi stai seguendo? No Vieni veloce Vieni veloce Non mi lasciare solo Arrivo 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 Devo fare tutto il giro Perché qui abbiamo costruito un botto Quindi è un po' un disastro Arriva 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 Occhio Steph Qui sempre qui a lato Ti ha sparato mi pare Sì è qui è qui è qui è qui Visto Colpito No ma c'è C'è qualcun altro C'è qualcun altro Dietro Steph C'è qualcun altro Dove? Qui Dietro di me È arrivato da dietro Ma sempre nel loro team? Non lo so È arrivato da dietro Quindi erano in quattro alla fine Una terra? E l'altro è lì Ha costruito e mi ha finito Ok Dietro quei muri di mattone Allora Calmi 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 Comunque Si sta buggando qualcosa Perché non sto più vedendo colpi Non sto più vedendo nulla Eh può essere Può essere La final kill è importante Così non ho più svantaggio numerico Perfetto Ok 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 E quindi rimane solo quello Guarda Guarda di nuovo Guarda di nuovo Ma dimmi te questa cosa Sì 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 Non va bene Cioè io ho finito i colpi così Non è possibile Ah che nervoso Questo ce li ha invece Adesso vado a luttare qua E mi spara quello lì dall'alto Però bisogna per forza di colpi Perché li ho finiti praticamente E infatti Porca miseria Giuro che se ti arrivo in casa Ti spacco la faccia Io me lo ricordo amico Me lo ricordo il tuo nome Me lo ricordo Allora Non sai neanche che nome abbia Lo so Al massimo la faccia Get rekt Maledetto Get rekt Muori Infame No ma infamissimi Infamissimi Non avevo più colpi di nulla Non avevo più colpi Praticamente di nulla Se vai lì c'era il mio Chuck Jug Lì dietro Quindi te lo puoi prendere Allora Aspetta Eh lo so Però ero lì sotto Dov'è? No sotto le scale Sotto le scale Tra il muro e le scale Per quello lui non li ha visti? No Le ha costruite lui Quindi non lo so Tecnicamente c'era Non l'ha preso? Ma forse se l'hai bevuto Per quello era tutto così belloso Carino Può essere magari se l'hai bevuto E mo? Ah boh E mo? Non lo so Vabbè stiamo in 12 Ho 5 kg Io e una tu Quindi comunque Quanto meno le stiamo usando Alle armi legendarie Ma adesso stare con 50 di vita È una tristezza Cure Qualcosa che mi può cura Cosa stanno facendo? Eh Faitando con qualcuno Mi stanno hitando Da dove? Sì sì Davanti a loro? No Mentre saltano così Ovviamente snapperà Aspetta Che cavolo Che sfortuna però Capitano ste cose Quando stai cercando Di cechinare Capitano Fin troppo spesso Allora Guarda Adesso aspetto Che lui miri Ok Ora l'ho preso Ora l'ho preso Ora l'ho preso Eh Fere Mi dovrebbe cascare Tipo un ardropo in testa Allora È la mia unica chance Esatto Ho anche abbastanza materiali Cioè senza cure Senza shield Magari c'è una casa Qui sopra Ma sta chiudendo la zona Quindi non riesco Ad andare a lutarla No Corri Steph Magari fa in tempo Corri Steph Voglio qualche curetta Mi va bene un medikit Vi giuro Mi va bene un medikit Ma frega niente Di avere uno shield Nulla Nulla mi sa Nulla Oh mamma mia Non voglio altri danni Vai via 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 Cioè guarda di quanto la chiude Tu dimmi se ti sembrano Onesto Se è giusto Esatto Guarda spero soltanto Di non vedere dalle finestre Un medikit E questo quando è arrivato Non lo so Ma cos'è oggi È un film horror Eh sì Spiegami Fuori casa Mio dio Da dove poi Non lo so Ti giuro che è la cosa più No sense che io abbia mai visto Cioè da quando giochiamo a Fortnite Non ho mai visto nulla Come questo momento Cos'era questa smoke bomb Sono in altissima Non si vede niente Nessuno Non capisco Vabbè Ah lo vedi Sì Hai un medikit Non lo so Amico Dov'è finito? Dietro l'albero Che sta a fa' Non lo so E poi quanti vogliono venire? Vabbè Dai non ho abbastanza colpi Per romperti gli alberi Porca miseria Ma che fa? Non ha capito da dove lo stanno Dove lo stai sparando Sta buildando nella direzione opposta Ok forse c'è arrivato Dai Basta O muoio o vivo Non mi interessa più Ok 5 player vivi o 6 kill Sì Sì Ho le bende Ho le bende Meglio di niente dai Meglio di niente Più o meno Me ne ricorderò Come si chiamava questo Ferre Dammi il nome Perché lo vado a cercare a casa Non mi ricordo Una benda È proprio cattiva Non lo so Vabbè Credo che sia lo stesso Che abbia tirato un fumogeno a caso Vabbè Oh no 1 2 Quanti saranno? Cioè se un team intero è finita No Ah no sì Quello era un airdrop Quindi non è per forza Ok Scivoliamo Giù dalla montagna Finché non mi vedono E mi killano Perché non ho Più nulla Ok li vedi? Sì Corri 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 Meglio di nulla Li trova così in terra Che la povertà Una benda o uno scillino Vabbè La prossima è uno slurp La tristezza infinita Sì la tristezza infinita La mia unica speranza È che Questo team sia da due Contro un altro team da due E io sono l'unico figato Da solo Che sta nascosto Capito Sotto i ponti Tipo cose così Stanno sparando Ferre stanno sparando C'è davvero qualche chance Evidentemente sì C'è davvero qualche chance Ma queste sono trappole Viventi Occhio eh Come adesso Esco da sta cosa Non lo so Mi hanno intrappolato Li vedi sotto? Sotto di te Sotto? Sì sotto di te Ma la costruzione? No saltavano nel campo da calcio Stai scherzando No ne ho visto uno saltare Ma te scherz Sono seria C'è uno nel campo da calcio Che saltava Ok E lì c'è una build Eh lo so E lì stanno continuando a costruire Quindi sono due team diversi Ho visto loot cadere Ma non è morta gente Com'è possibile sta storia? Boh Lo vedi quello? Un airdrop Stavano prendo l'airdrop Uno Due Qualcuno li può sparare? Ah Aspetta Stanno lasciando quelli? E quindi sono team differenti Si spera Non sento sparare Sì sono monoteam E si stanno Ok Si sono sparati Però uno è morto Quindi forse è 3v1 Lo vedi? Lo vedi quello che saltava nel campo da calcio? Io non ho parole Te l'avevo detto che c'era uno che saltava nel campo da calcio Di mille probabilità che poi non c'aveva le band E avevi fatti Porca miseria Ma te l'avevo detto infatti Dovevi fare attenzione Sono uno contro due Lui non si è proprio accorto Sono uno contro due Attenzione Attenzione Magari il medikit Tutto il nostro game è qui La speranza è l'ultima a morire Uno slurp L'avevo chiamato prima Ecco qua Ecco qua Vabbè meglio di nulla dai Che devi fa Spare le Oh sparano ancora Oh Però magari stanno sfondando per capire dove la gente Oh Calmi tutti Cavolo la nuova zona Loro sono dentro la zona in un posto alto Io sono da solo Con Neanche 50 di shield Neanche full vita Cosa voglio fare Hanno appena aperto un airdrop No no è caduto l'airdrop Ah A chi stanno tirando dei razzi Non lo so Però io rischio Occhio che avrei attirato l'attenzione È il momento più bello della mia vita Ah devi fare attenzione Lo so Devi salire sulla montagna Eccolo 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 Ti arrivano addosso Occhio Eh vabbè Eh vabbè Erano in due alla fine Erano in due Sì 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 Stavano sicuramente Disseggendo un po' di alberi Un po' di cose Come hanno aperto l'airdropa Hanno capito dove ero E via Però 7 kill È stato divertente Mi è piaciuto Sì 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 sì